Sei sicura che c'è tutto? Manca qualcosa? Manchi tu, Sara. Questa è l'associazione di volontariato. Chiama. Ma perché non vieni? Testi medicina? Buongiorno, sono Sara. La chiamo dall'associazione. La malattia è come un viaggio. Può essere un weekend, può essere un'avventura in un paese esotico, oppure può anche essere un viaggio senza meta. Tua madre è una paziente, vero? Vero, una paziente. Arianna Kitty. Questa me la segui tu. La mutazione BRCA è ereditaria. Prima vedi tua madre morire, e poi tocca a te. Io questa ragazza non la posso accompagnare, perché è la mia peggior nemica. Più aumentano le cose di cui hai bisogno, più questa valigia diventa grande. Quando sarai medico ti accorgerai di quanto sono importanti i volontari. Sono loro che ti permettono di portare in giro questa valigia così pesante ovunque, con meno fatica e anche più velocemente. Amico-ehan Grazie.